In modo è chiaro che qui c'è un'esasperazione di questo messaggio, ma dall'altra parte quello che è il messaggio stesso della moda, che è una forma di arte, ma come ripeto sempre è un'arte minore, è che prende vita. Quindi il dare vita a ognuno con la propria singola personalità inventa e reinventa questo messaggio. È un messaggio fatto di una maglieria colorata e lavorata che replica quasi il movimento delle onde del mare, è una maglieria che replica l'arte, ci sono dei pezzi di questi pantaloni molto leggeri, in popling colorati, in trench colorati, quindi alla fine è anche reinventare un pezzo con quello che è una camicia di alto o con una base più neutra. Tu sei sempre molto classico in genere, anche se con un twist. Aiuto! No, no, è brava, è una faccia, una tracca, una faccia, voglio dire, indosso.